Un violento impatto frontale si è registrato questa mattina intorno alle ore 9 sulla strada provinciale 430, meglio nota con il nome di Cilentana, nel tratto che va da Vallo della Lucania a Vallo Scalo, più precisamente prima della galleria di Vallo Scalo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Suzuki Swift e un'Opel Corsa su cui stavano viaggiando due donne. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania agli ordini del caporeparto Sansone, assieme a due ambulanze provenienti da Ascea. Presenti anche due volanti dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per la gestione del traffico che è rimasto completamente bloccato a causa del sinistro. Le due donne a bordo delle vetture sono rimaste ferite nell'impatto e trasportate all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ancora incerte le dinamiche dell'incidente. Secondo una primissima ricostruzione, una delle due auto sarebbe sbandata improvvisamente andando a invadere la corsia opposta. Altra ipotesi al Vallo di Kindaga è quella di un sorpasso azzardato. Lunghe code si sono formate lungo la Cilentana, bloccati anche numerosi mezzi pesanti. In questo momento i soccorritori stanno rimuovendo le due automobili e in breve tempo la situazione dovrebbe tornare alla normalità, permettendo al traffico veicolare di defluire normalmente.